Da un derby all'altro per l'orassi Ravenna. Nella mente dei sostenitori giallorossi ancora riecheggiano i dolci ricordi di un successo tiratissimo nella sfida del Pala de André contro i cugini dell'Uni Euro Forlì. Ma adesso è già tempo di dedicarsi a quella che sarà una prova altrettanto importante, la trasferta del Pala Ruggi per affrontare le naturelle Imola. Una sfida accompagnata come da consolidata tradizione, dalle classiche schermaglie dialettiche tra il presidente dei bizantini Roberto Vianello e l'amministratore delegato dell'Andrea Costa Giampiero Domenicali. Oggetto del contendere l'eccessivo costo dei biglietti, alzati per la circostanza così come accadrà in occasione degli altri derby, ha precisato il patronna dei biancorossi. Sul campo si vedrà una sfida ricca di significati, tra una squadra, quella di coach di Paolo Antonio, che proprio nel palazzetto di casa ha costruito gran parte delle proprie fortune e un'ora si ravenna che in trasferta ha esultato solo alla prima giornata col blitz di Piacenza, sponda a Sigeco. Sarà invece la bakery a fare visita a Forlì. Altra gara durissima contro un avversario particolarmente ostico, come dimostra la vittoria di Montegranaro ottenuta domenica scorsa dagli emiliani, ma anche una sfida stimolante per la squadra di coach Giorgio Valli, che proverà a mettersi alle spalle il rammarico per le due sconfitte consecutive, arrivate dopo il filotto di quattro vittorie.